Intanto alcune note dolenti, un vice sindaco barese, i tarantini volevano un tarantino? Ma purtroppo per qualche d'uno, io credo che invece i tarantini vogliono soltanto il meglio, noi abbiamo scelto il meglio per adesso. E proprio Taranto non aveva nessuno di meglio da proporre? Abbiamo voluto assegnare il vice sindaco all'assessore all'ambiente perché l'ambiente resta una questione essenziale per il futuro di questa città. Però volendo essere cattivelli, non l'ha detto prima della campagna elettorale che nominava un vice sindaco barese. Sindaco, perché scappa? No, no, non scappo, però lo doveva dire in campagna elettorale, che avrebbe nominato un vice sindaco barese. In campagna elettorale quando qualcuno diceva solo Tarantini ho detto solo i migliori. Ma c'è il commissariamento politico di Emiliano? No, assolutamente no, vi posso garantire che il presidente Emiliano non ha avuto nessuna voce in capitoli e nessuna nomina.